Bene, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di percorsi di innovazione insieme a Banca Generali, Politecnico di Milano e oggi al tavolo con noi anche Francesco Venturini, CEO di Enel X. Vedete anche Laura Grassi, la ringrazio, direttore dell'osservatorio Fintech e Insultech del Politecnico di Milano. Buongiorno anche a lei e buongiorno a Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Generali. Allora, insomma, il tema di oggi è risparmio ed efficienza, quando le due cose possono andare insieme, come valgono? Per Enel X la cosa sta proprio nel nome inditta, poi con Mossa cercheremo di capire come invece questo possa valere anche per il settore del risparmio gestito, cosa vuol dire risparmio, cosa vuol dire lo sappiamo, cosa vuol dire ovviamente il risparmio energetico, sarà un po' più difficile comprenderlo con lui, però con Mossa ne ho già parlato altre volte e lo sappiamo bene, però io vorrei iniziare subito dalla padrona di casa, professoressa Grassi, perché vorrei chiedere subito se questi temi di cui stiamo parlando oggi, noi giornalisti ne parliamo sempre, le aziende ne parlano sempre, poi sono colti nella loro importanza e nella loro essenza anche dagli studenti, cioè se capiscono l'importanza e soprattutto per loro non è come qualcuno può pensare per alcune aziende greenwashing, ma è essenzialmente una cosa che loro hanno considerato molto loro. Magari glielo chiediamo direttamente dopo, però dagli studi, dalle ricerche che facciamo al Politecnico credo emergano due cose, la prima che quando noi parliamo di giovani e di utilizzo di servizi fintech, che poi sostanzialmente significa innovativi in ambito finanziario, digitali, che a volte disintermediano ma a volte no, ecco la soddisfazione è molto alta, con le scale voti da scuola su scala 10, mediamente 8 la soddisfazione che hanno i giovani, quindi estremamente soddisfatti e questo vale per i pagamenti, per il risparmio, molto spesso in realtà più che risparmio a lungo sono salvadanai, quindi finalizzati magari più a breve medio periodo, assicurazioni istantanee, quindi una serie di servizi anche molto eterogeni tra loro, però c'è un però, perché se si va a capire, va a chiedere se vogliono fare un finanziamento, se vogliono fare un'assicurazione salute, che in questo momento è molto di rilievo, se vogliono pensare nel lungo al loro risparmio, quello che scelgono come operatore di riferimento a quello tradizionale, o la banca, o la posta diciamo, o l'assicurazione, quindi due cose in realtà sono un connubio di una stessa preferenza che hanno i ragazzi, mediamente, poi vediamo loro cosa. Vediamo poi come ci risponderanno loro su quell'altro tema, Venturini si è laureato alla Sapienza, è una cosa che abbiamo in comune, quindi la dico ogni volta che lo vedo, perché poi dopo, a differenza mia, grande università, grandissima università via Castro Petrolio, ve lo dico, ce lo siamo detti anche l'altra volta che ci siamo visti, vabbè comunque nulla togliendo alle università milanesi, andiamo avanti, poi ho fatto l'Online School of Economics, l'MIT nel 2017, nel 2017 nasce NLX, è il momento giusto per accelerare questo secondo te Francesco, siamo, abbiamo passato, abbiamo passato, abbiamo scollinato, c'è ancora da fare un po' di lavoro per far capire esattamente che cos'è il risparmio di energia e l'utilizzo di rezzo, noi all'università queste robe qui, insomma, non è che ce le spiegavano la Sapienza. Perché parlavamo poco di innovazione, che è una cosa abbastanza strana, ma in realtà se andiamo a a guardare, almeno questa è la mia opinione, si parte da la creatività, noi siamo un paese di creativi e creatività è fondamentale per andare a guardare le cose in maniera diversa. L'innovazione invece parte dalla creatività e significa andare a trovare una soluzione a problemi vecchi, oppure trovare una soluzione a nuovi bisogni. Io però tendenzialmente quando guardo a guardare fintech, innovazione, nuovi trend energetici, a me piace sempre tornare fondamentali, alla fine siamo in un'economia di capitali, dobbiamo tornare a uno stratega, al vecchio porter e c'è sempre un tema di costi o differenziazione. Pensare che il mondo sia cambiato e che quindi si competa su strade diverse, secondo me è sbagliato. Dobbiamo essere o competitivi da un lato di costo, oppure dobbiamo trovare una maniera per differenziarci. L'innovazione ci aiuta a ridurre i costi e a differenziarci. Che cosa è cambiato? A ridurre i costi, Francesco, scusami se ti interrompo, sempre a ridurre i costi l'innovazione, perché in realtà è anche un investimento l'innovazione in maniera. Però ti permette di essere più efficiente e quindi essendo tu è più efficiente degli altri a un migliore prezzo del tuo prodotto e quindi riesci a vincere sul mercato. L'innovazione la fai anche ovviamente sul lato della differenziazione, quindi tu differenzi il tuo prodotto e quindi il tuo prodotto è più appetibile sul mercato. Però alla fine i due grandi poli sono questi. Che cosa è cambiato rispetto al passato? È questo che è fondamentale. È che si pensa che l'innovazione, sia al lato costo che al lato differenziazione, sia la soluzione per tante cose, per tutto e quindi ci sono grandi capitali e quindi grandi opportunità per tutti i giovani perché grandi capitali aprono opportunità di investimento. E questo secondo me è il grande cambiamento rispetto al passato. Quindi innovazione la vediamo sotto questo punto di vista qua. Quali sono però i grandi trend? Forse è quello che ci dobbiamo andare a chiedere in questo momento. E qua entriamo proprio nell'argomento di oggi. Quindi sostenibilità, tutto quello che è transizione energetica, ma anche il futuro del cibo, il futuro del lavoro. Sostenibilità si declina in tante maniere diverse. E secondo me l'altro grande trend a cui dobbiamo andare a guardare è tutta la transizione invece digitale a cui si ricollega ovviamente tutto il mondo del film. Mossa, ci conosciamo anche con te da un po' di anni. Non posso dire che il cliente tipo della Banca Generali che guidi da cinque anni è un 25enne assetato di innovazione. No, lo dico perché mi auguro che tu abbia tanti 25enne unicorn come i tuoi clienti. Perciò la domanda non è ovviamente così sciocca, però come entra il fintech, le nuove tecnologie, l'innovazione per un mercato piuttosto conservatore? Perché Venturini punta un mondo diciamo molto ampio di clienti. Insomma, devono avere quattro soldi almeno. Non che non abbiano i soldi quelli di Venturini, però insomma mettiamola che il risparmio gestito è un po' problema più anche di quantità. Hai capito che tendo? Certo. Beh, innanzitutto ti ringrazio perché mi hai promosso all'amministratore delegato di Generali. Banca Generali ovviamente. Non so se è una buona promozione, vabbè lasciamo per. Ti ringrazio. Allora, diciamo che abbiamo circa 20 mila ragazzi sotto i 30 anni come clienti, che comunque è un bel numero rispetto ai 300 mila complessivi. Il problema vero è che sono circa quelli 6,5%. Gestiscono, meno dell'1% degli assets, quindi è un po' la fotografia dell'Italia. Mi piace avere i giovani come clienti, poi se lo guardo da un punto di vista di risparmio, purtroppo di Unicorn ne abbiamo veramente molto poco. Però è anche vero che... Anche se uno l'abbiamo intervistato insieme, uno l'abbiamo intervistato, ora che ci penso, è un giovane che abbiamo intervistato insieme, è vero? Sì, ha fatto un'operazione da 600 milioni, quindi non è andata male, non è andata male. Diciamo che però il tema della user experience, cioè di pretendere semplicità, velocità riguarda un po' tutti, soprattutto riguarda anche i banker che riescono a migliorare la qualità del servizio. Se tu pensi che ormai siamo al 60% di operazioni che passano senza carta e che riguardano proprio i nostri clienti più ricchi, ti dà un po' l'idea di quanto ormai e nell'abitudine comune, nell'usanza comune, avvalersi di innovazione anche nei settori più tradizionali. E poi, come diceva Francesco, è correttissimo, nel senso che poi non è solo una questione, diciamo, di user experience, quindi del cliente finale, ma è anche un tema fortissimo, culturale all'interno della banca stessa, perché questo interessa moltissimo anche agli investitori, leva operativa, produttività, efficienza e quindi riduzione dei costi sono all'ordine del giorno. Quindi, se vuoi, da una parte ti fidelizzi di più una clientela che non cerca solo quello, ma che è abituata a interagire con la tecnologia in modo molto semplice e innovativo e dall'altra la banca ne ha bisogno come il pane per lavorare sui costi, sull'efficienza e sulla produttività. Scusami, lato invece investimenti, cioè back office rispetto al risultato che voi date, lì invece intelligenza artificiale, fintech, innovazione è entrata? Beh, è entrato tantissimo. Adesso lasciando perdere tutta la parte, diciamo, più di analisi dati, quindi di artificial intelligence e di machine learning. Sul mondo della finanza, per esempio, la più grossa innovazione la sta portando tutto il tema della blockchain e di tutto l'applicazione dei defi, cioè nel cercare di disintermediare proprio i big player. Noi stiamo lavorando moltissimo con tutta la parte di automatizzazione, di automazione, quindi le risorse che fai fare le dedichi a attività più a valore aggiunto e tutto il resto è automatizzazione dei processi. Dottoressa Grassi, ma possono gli attori finanziari tradizionali, banca generali e una di queste ovviamente competere con le big tech che sono nate nel loro DNA hanno l'innovazione? Big tech è spesso associato a big data, quindi il fatto di essere più brave a raccogliere un numero spropositato di dati, di informazioni, avere i migliori algoritmi per analizzarle e quindi in qualche modo quasi magicamente poi trovare le soluzioni a n problemi. Però per me in realtà la discussione deve essere portata su un altro piano. Noi abbiamo bisogno di quantità di dati per fare girare algoritmi di artificial intelligence, di machine learning se la qualità dei singoli dati è molto bassa e allora non vai sulla qualità, vai sulla quantità e da lì cerchi di trovare delle regole, dei pattern e quant'altro. C'è invece un tema che le banche, spesso si dice per colpa della regolamentazione, la compliance, la mi fide di quadri, in realtà quello è un grandissimo vantaggio perché ha portato a raccogliere storicamente, quindi non da ieri, dati di altissima qualità, di altissima profondità, storici che sono oggi all'interno di tutti gli istituti finanziari e lo saranno no? Perché anche lì la regolamentazione può impone una serie di cose ed è quello il vero valore e quei dati lì non li ha nessuno, cioè nessun'altra industry anche perché non ha la regolamentazione così dura no? Come quella del mondo finanziario non può avere quel vantaggio competitivo. Quindi forse non è tanto competere ma è capire come estrarre valore da dei dati, da una qualità, da uno storico che hanno solo loro. Per me bisognerebbe parlare più di quality dei dati che non di quantità perché è chiaro che si sposta la palla sulla quantità se non c'è la qualità. Però chiedo una cosa, cambiando un po' la palla andando su mossa, ma potete usarmi voi tutta quella mole di dati che firmiamo quando investiamo 10.000 euro e vi spieghiamo pure quanti cani abbiamo? La potete usare per motivi di privacy e compagnie? Allora, questa è una bellissima domanda, la risposta più semplice è no a meno che non ci sia una privacy, quindi un consenso da parte della nostra clientela e adesso la stiamo raccogliendo perché è cambiata molto, la normativa è molto più stringente, però ha molto ragione Laura perché se ci pensi oggi tra Antima e Landari, quindi tutte le informazioni di provenienza del denaro e profilazione dei clienti, quindi tutte le informazioni socio-demografica, economico-finanziarie del cliente, i clienti lo conosciamo molto bene. Poi se si attacca anche la parte tramite PSD2 dei comportamenti di spesa del conto corrente è molto più sul cliente rispetto a un social. Quindi devo dire che una volta che riusciremo a risolvere il tema della privacy e ci stiamo muovendo in quella direzione e riusciremo a usare queste informazioni perché la cosa paradossale è che in molti casi, in molte istituzioni finanziarie sono ancora pezzi di carte messe in archivi. Ah, pazzesco. Perché è pazzesco, se ci pensi. Sì, sì, sì. E' la sfida, la famosa trasformazione digitale delle istituzioni finanziarie. Vetturini, voi siete molto conosciuti ovviamente per le colonnine elettriche che tutti quanti noi conosciamo, però fate, oltre che la mobilità elettrica, fate leggo casa, imprese, pubblica amministrazione, servizi finanziari e la fibra ottica in America Latina. Però le voglio chiedere in quali di questi settori secondo lei ci sarà il maggior sviluppo? Cioè se dovesse puntare, lo sta facendo immagino, ci dia qualche suggerimento su quale di queste diverse attività di Enel X bisogna stare a guardare attentamente gli investimenti? Beh, intanto spieghiamo un attimino che cosa è Enel X e che cosa fa, perché quando parliamo di casa, di industria, di pubblica amministrazione siamo un po' generici. Noi partiamo con un obiettivo principale che è quello di cercare di aiutare i nostri clienti a fare un utilizzo dell'energia più sostenibile e contemporaneamente a risparmiare. Queste sono due cose che sembrano sempre una che va contro l'altra, ma in realtà sostenibilità spesso vuol dire risparmi. Come le aiutiamo a fare questo? Elettrificando i consumi da una parte, digitalizzando le proprie attività dall'altra. Questo è il nostro focus principale, insomma, nel DNA, quello che facciamo da un punto di vista di azienda energetica. In realtà poi tanta della nostra attività è dedicata ad altro, perché noi andiamo a guardare quelli che sono gli asset sull'enorme stato patrimoniale di Enel e cerchiamo di valorizzare questi asset. Fatti per esempio di cosa parliamo? 75 milioni di contatori vuol dire che Enel in giro per il mondo dà energia a quasi mezzo miliardo di persone tutti i giorni. Quindi potete immaginare il portafoglio di clientela potenziale che questa azienda ha. Su che cosa punterei? Allora, su tante attività che noi facciamo sicuramente tutta quella di trasporto sostenibile. Attenzione non vuol dire soltanto colonnine, vuol dire trasporto del cosiddetto ultimo miglio. Sempre di più le persone comprano meno automobili e si dedicano sempre di più a un trasporto più sostenibile. Più di breve utilizzo il trasporto pubblico con un trasporto di cosiddetto punto ultimo miglio per arrivare a casa in ufficio, trasporto su gomma, trasporto su barca, rotaia e anche il trasporto aereo si sta convertendo in parte almeno all'elettro e qua scatoliscono tutta una serie di servizi. Uno di questi servizi, che è la seconda cosa su cui puntiamo in maniera molto forte, è la cosiddetta virtual power plans, quindi le aziende, gli impianti di generazione cosiddetti virtuali. E qua lo troviamo nel trasporto, lo troviamo a casa, lo troviamo nell'industria. Sempre di più i nuovi sistemi elettrici saranno connessi, quindi tanto digitale, sempre di più sarà fondamentale il fintech perché per essere compensati dai servizi che verranno resi ci saranno piattaforme che dovranno scambiare anche spesso e volentieri pochi centesimi di euro per l'attività che viene fatta. Andremo sulla casa intelligente, sempre di più, quindi efficiente, digitale, servita, in questo caso assicurata ed è nuovamente anche qua per tutti i servizi che andremo a fare, ora siamo abituati a vedere sempre di più abbonamenti da 3, 4, 5 euro e tutto questo vorrà dire scambiare in maniera efficiente tutti questi pagamenti. L'ultimo settore su cui stiamo puntando in maniera molto molto forte, che non era nella lista che hai fatto prima, è la telemedicina. Una cosa su cui stiamo iniziando a investire in maniera importante e su cui riteniamo che in Italia, ma in giro per il mondo, ci siano grandi spazi di crescita. Abbiamo fatto insieme un po' di mesi fa il lancio della vostra applicazione. Come sta andando l'applicazione dei servizi finanziari? Proprio per questo ragionamento che facevi tu del fatto che molti pagamenti possono essere collegati e questa roba impressionante di 500 milioni di persone che comunque potenzialmente sono un patrimonio da tenere bello caro. Come sta andando? Sta andando molto bene, tante persone non sanno, ma Enel possiede un circuito privativo di carte di credito in America Latina anche molto importante. E ha portato questa esperienza in Europa diventando una società che fa sostanzialmente facilità pagamenti, quindi una cosiddetta email, ma investe fortemente in tecnologia. Quindi il nostro obiettivo è quello ovviamente di avere con i clienti sempre di più conti aperti, ma contemporaneamente avere la tecnologia per gestire quei milioni di pagamenti di cui parlavamo prima e che saranno alla base del mondo dell'energia del futuro. Pensiamo soltanto alle macchine elettriche. Ogni volta che si andranno a attaccare una spina dovranno pagare anche spesso e volentieri pochi centesimi di ricarica e noi dobbiamo essere lì per servire il cliente. Giammaria, i temi di cui parla Francesco Venturini sono i temi ovviamente del futuro su cui stanno investendo molte aziende, però quando sento l'industria finanziaria, l'abbiamo fatto tante volte anche con te l'ISG è l'investimento fondamentale, sostenibilità, i green, la governance, dettato dal fatto che c'è una montagna di liquidità e quindi si cerca disperatamente una storia, come ne abbiamo viste tante negli ultimi trent'anni, o questa volta la storia è un po' come l'altro lato di quello che ha detto Venturini? Cioè bisogna andare verso quel mercato perché è un mercato che sarà il mercato del futuro? Ma allora, per rispondere velocemente, sicuramente il mercato del futuro, poi da un punto di vista di quotazioni di mercato, come tu ben sai bisogna distinguere un po' il breve dal medio lungo. L'anno scorso tutto il tema dell'environmental, cioè la EDSG è stato il settore che è cresciuto di più, ha fatto crescita a tre cifre, è partito quest'anno con un più trent'anni e poi adesso ho corretto circa un 20%, soprattutto tutte le piccole aziende, le aziende molto verticali che hanno un livello di debitamento molto alto, stanno un po' soffrendo ovviamente di presa di beneficio e poi delle prospettive di inflazione, di normalizzazione. Nel medio e lungo periodo invece il trend è fortissimo, inequivocabile, scusate, e soprattutto supportato da soldi anche, da un consenso politico e da soldi pubblici, quindi è un trend in cui occorre esserci. Io credo che sempre di più bisognerà guardare non solo società che verticalmente coprono il settore, ma anche big player che hanno avuto la capacità, meglio e più velocemente di altri, di avviare la trasformazione interna. Credo che Enel sia veramente un esempio di cui dobbiamo essere orgogliosi perché è un esempio italiano di grandissima trasformazione e innovazione nell'ambito green. Invece qual è l'innovazione, dottoressa Grassi, dell'ingegneria? Voi siete famosi per tutti gli ingegneri d'Italia, vorrebbero essere laureati al Politecnico, non gli economisti perché c'è ragione Venturini, devono andare alla Sapienza. Però non è una battuta, cioè come sta cambiando quello che un tempo era considerato il Tempio dell'ingegneria ed è il Tempio dell'ingegneria, non solo in Italia e in Europa, cioè sono diversi, come si lega il vecchio sistema ingegneristico a queste nuove tecnologie di cui stiamo parlando? Io partirei dall'obiettivo che vogliamo nella formazione degli ingegneri al Politecnico. L'obiettivo è sì essere bravissimi nelle competenze tecniche, ma esserlo altrettanto nel riconoscere i bisogni, perché se sei bravissimo nella parte tecnica oggi nel mondo in realtà hai altri competi, diciamo, persone, ma hai anche la tecnologia stessa che ti può sostituire in certi ambiti. C'è però un tema, il riconoscere il bisogno oggi la tecnologia non è così brava a farlo, no? E allora noi lavoriamo sul doppio aspetto, uno è di risaldare, di creare competenze tecniche, tecnologiche, capire il digitale, non lo so, saper programmare in Python, no? Però io non definirei i nostri studenti dei programmatori, quello è quasi una commodity, loro sono molto bravi, ed è forse anche il motivo per cui hanno grande successo, a capire che prima di arrivare a programmare e alla fine della programmazione ci sono due fasi fondamentali, la prima è di aver capito bene il problema, cioè di averlo veramente capito, anche se viene raccontato male, anche se viene dato un obiettivo di breve quando in realtà è di lungo. E il secondo è il cosa c'è dopo, cioè il verificare che le cose funzionino, che si deve rifare sempre, che non si è mai finito, che si può ripensare, ci si può sempre migliorare, è quello su cui noi andiamo a lavorare, no? Per cui questo è l'obiettivo con cui in realtà stiamo lavorando su tutti i nostri master, su tutti i nostri programmi. Nella pratica questo che cosa significa? Significa avere dei centri di ricerca al Politecnico molto importanti, sia per la parte tecnologica che per la parte di innovazione o di verticali di business, no? Quindi partire dalla ricerca di altissimo livello e poi fare in modo che questa ricerca passi nella formazione, molto spesso fatta anche con le aziende, con testimoni aziendali, con casi, con progetti che sono veri progetti aziendali su cui misurarsi, no? E quindi non avere quella, l'università, il Politecnico è una cosa, il mondo del lavoro, il mondo, come dire, reale è un'altra, no? Noi soprattutto sugli ultimi anni, soprattutto sulle lauree specialistiche, le magistrali, no? Quindi gli ultimi due anni del percorso formativo, quello che vogliamo è lavorare con le aziende e creare lì anche, no? La formazione dei ragazzi. Ricordo tutti quanti i ragazzi che potranno fra poco fare delle domande direttamente inserendo nome e cognome nella sessione di Q&A e quindi io però vado subito da Venturini a chiederti banalmente, se io fossi un 22enne, che tipo di ragazzo, come mi dovrei presentare per entrare nella tua società? Quali sono le competenze che voi chiedete? Cos'è che guardi? Non so, immagino non sia tu a fare la selezione dei nuovi assunti, però quali sono le caratteristiche che cercate? Faccio, invece no, guardo tantissimo la selezione. Direttamente anche tu? Direttamente ovviamente no, perché poi la selezione è molto estesa, noi abbiamo 3200 persone su 27 paesi in giro per il mondo, quindi come puoi immaginare di qui non ne vediamo tantissimi, però la mia preoccupazione è sempre quella di essere sicuro che quando andiamo a fare selezione andiamo a misurare con attenzione la diversità, perché se non portiamo diversità in azienda rischiamo poi di appiattirci molto e tendenzialmente noi siamo una utility, il nostro DNA è quello, quindi abbiamo una tendenza a standardizzare molto il tipo di figura che andiamo a cercare sul mercato, perché con 60, 70, 80 anni di storia dietro, quello è un pochettino il motore che ci siamo messi quando facciamo la selezione. In realtà in Enix cerchiamo profili molto diversi. Prima Laura ha detto i programmatori sono quasi una commodity, magari ad averceli i programmatori bravi che siano commoditizzati e possano lavorare con noi. Abbiamo una difficoltà mostruosa a trovarne sul mercato, in particolare sul mercato italiano, abbiamo una difficoltà mostruosa a trovare gente che sappia fare buon project management, end to end, abbiamo una difficoltà mostruosa a trovare gente che voglia fare cambiamenti culturali profondi in azienda, che vuol dire rimettere completamente tutto in discussione, a fare quelli che vengono definiti gli agile coach, che poi nella realtà sono nient'altro che dei motori di cambiamento in azienda, che hanno delle attitudini che spesso e volentieri sono di tipo psicologico, sociale, magari laureati in filosofia e che ci aiutino proprio a guardare il mondo in maniera diversa. Abbiamo parlato tanto di lauree, abbiamo parlato sicuramente tanto di lauree tecniche, che sono fondamentali nel futuro, ma io non disdegno persone che facciano un percorso completamente diverso, che la laurea non necessariamente ce l'abbiano come obiettivo. Noi dobbiamo comunque cercare gente che abbia anche capacità di guardare il mondo diverso e che quindi magari siano cresciuti. Utilizzo un'espressione, il nerd di turno che è cresciuto di fronte a un computer ci ha passato gli ultimi 15 anni di vita, per noi è fondamentale. Non li voglio tutti così, ma avercene 4-5 all'interno del team che guardino con caratteristiche diverse il mondo è fondamentale perché comunque riescono a servire quella parte, quell'angolo buio che gli altri non riescono a guardare. Quindi suggerimenti non ce li ho, la diversità è fondamentale, sicuramente le materie scientifiche rimangono un aspetto importantissimo per lo studio di questo momento, perché visto che si parla tanto di transizione digitale e energetica, però gli studi classici portano assolutamente tanta diversità in azienda, non devono essere sottostimati. Bene, Gioamaria, invece il tema su di te riguarda invece la disintermediazione. Ieri ho fatto un webinar sui miei social sulle quotazioni di questa settimana delle piattaforme dei bitcoin, ieri è stata una domenica tremenda per i bitcoin, però non voglio entrare nelle criptovalute, voglio entrare proprio in questo nuovo principio della disintermediazione bancaria e come l'affrontate? Ma allora... Per un'altra domanda te le voglio fare un po' più economiche e finanziarie, Gioamaria. Questa e poi dopo... Sai, per un'azienda che lavora nell'intermediazione finanziaria, tu usi la parola disintermediazione, mi viene un po' un brivido. Certo. Bisogna anche capirsi bene che cos'è disintermediabile e cosa no. Io credo che l'esempio che hai fatto sulla tecnologia blockchain, sulle cryptocurrency, siano un esempio di futuro, di modalità alternativa nel mondo per esempio del transazionale di sistemi di pagamento. Già oggi esistono persone che trasferiscono soldi a familiari tendenzialmente nel terzo mondo senza dover caricarsi di fee del 5-10%. Quindi ci sono dei settori che stanno già, secondo me, soffrendo della pressione delle nuove tecnologie e tutto il mondo per esempio dei sistemi di pagamento e del transazionale stanno in qualche modo caratterizzando aggregazioni, pensa di più next in Italia, o start-up che hanno fatto del verticale dell'innovazione, un punto di forza per disintermediare le banche. Pensa Stripe che ha una valutazione pazzesca negli Stati Uniti, è una start-up che non so se abbia più di tre anni. Allora, il punto vero è non alzare le barricate dove è indispensabile, cioè laddove tu non hai bisogno di professionalità e di relazione bisogna lasciar perdere, bisogna investire tutte le energie dove la certezza di risultato non ce l'hai mai. Più pensa quando si parla di protezione familiare, di passaggio generazionale o di ottimizzazione patrimoniale, di patrimoni che magari hanno qualche decina di milioni, stratificato nel tempo tra immobili, azienda e capitale. Allora, questo è il tema su cui noi stiamo investendo. Poi io sono d'accordissimo con quello che ha introdotto Laura e che ha enfatizzato con Francesco, che è il tema dell'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. Uno, la famosa diversity oggi è fondamentale e due sono quegli elementi di cambiamento culturale che ti aiutano a smontare un po' queste stratificazioni del tempo. Poi è difficile metterli dentro un'azienda perché le aziende sono ancora troppo da organigramma, però sono l'elemento che attiva il cambiamento delle aziende, quindi altro motivo per cui siamo straordinariamente attenti e ci rivolgiamo ai giovani. Dottoressa Grassi, se le potesse chiedere al governo due o tre cose da fare in questo momento per il vostro settore, che cosa gli chiederebbe? A Mossa non l'ho chiesto a te, l'ho chiesto alla dottoressa Grassi, perché già ti vedevo che stavi lì con l'elenco tipo Paperon dei Paperoni, invece la Grassi so che avrà un atteggiamento più moderato. Ma non l'ho avuto in passato, ci provo. Allora io vorrei un piano, ma un piano di lungo serio, che non sia legato a un o il governo o a una fazione, un partito o quant'altro. Nel senso che se io penso al fintech in Italia, oggi forse si inizia a discutere di sandbox, si inizia a discutere di come finanziare le start-up, come fare in modo che ci sia un ecosistema. Se io guardo altri paesi nel mondo, guardo Singapore, guardo al Regno Unito, guardo a Hong Kong, che sono ambienti che conosco benissimo, queste discussioni sono partite 15 anni fa. Oggi sono già su un altro livello. Allora capisco che oggi si riconoscono quelli come dei successi perché c'è un lasso di tempo che ha permesso di definirli successi. Però capisco anche, oppure forse spero, che si capisca che oggi siamo già a un altro livello. Quindi forse ripartire a prendere spunto da altri paesi non deve essere fatto guardando alle singole iniziative che sono state fatte in quei paesi, ma forse più a guardare il senso di quelle iniziative e contestualizzarlo nel mercato italiano, che ha tutte le sue specificità che ben conosciamo. E questo è un piano strategico veramente pluriennale, perché non è la singola iniziativa che porta a un beneficio. È il come le autorità, il governo, le università, le aziende, lavorano veramente tutti insieme per un obiettivo che sia un obiettivo comune. Quindi benissimo tutte le iniziative che sono nate, dalla Cassa Depositi e Prestiti a il Sandbox, all'Hub ad esempio di Banca d'Italia, le prime che mi vengono in mente. Però forse possiamo fare ancora di più con questa logica di sistema, di obiettivo futuro comune. Bene, speriamoci. Adesso ritorno a cose un po' più prosaiche con Venturini, perché gli voglio chiedere subito una delle cose che a me più appassiona, perché io sono ancora della generazione come la dottoressa Grassi che ama il vinile, anzi il vinile l'ho immaginato, perché vedo che parliamo di innovazione, non può non esserci il vinile nella sua vita, come non possono che esserci le macchine a benzina con i carburatori nella mia. Però a parte le battute, dottor Vetturini, la cosa che mi interessa capire è quanto la mobilità elettrica sarà nel futuro, si svilupperà nel futuro, perché poi siccome abbiamo fatto la sapienza con lo stesso professore di statistica, quando noi vediamo più 1200%, perché poi il problema è che partiamo da 400 auto vendute a 16.000, stiamo sempre su numeri ridottissimi dell'elettrico puro, a parte tutte le battute, dove vede quel mercato, dove sta andando, quali saranno le evoluzioni e se verranno segmentati tra diversi usi che se ne dovranno fare? Vabbè, forse stiamo partendo dal numero sbagliato, non dovremmo andare a vedere il venduto in Italia, dovremmo andare a vedere l'investito nel mondo, le scelte si fanno nel momento in cui si fanno gli investimenti, perché una volta gli investimenti sono stati messi a terra, bisogna poi prendere il prodotto e portarlo sul mercato, poiché l'industria dell'automobile sta investendo in maniera, e ha investito in maniera importantissima sull'elettrico, penso che ci siano pochi dubbi in questo momento che sia la tecnologia che dovrebbe almeno nel breve medio periodo ridurre i problemi di sostenibilità del trasporto in generale. Quindi, pensiamo, viene sempre preso ad esempio la Tesla, ma forse non è l'esempio giusto, Tesla è stato quello che ha spaccato il mercato, è l'innovatore, prendiamo invece le grandi industrie, la Toyota, la Volkswagen in particolare, ma ora anche le altre due grandi aziende tedesche come la BMW, la Mercedes, la stessa Renault, gli investimenti fatti sulla tecnologia elettrica sono mostruosi, quindi questo è un segnale forte di quello che sta per accadere. Il 2021 era visto come l'anno in cui sarebbero arrivati in gran parte dei modelli che poi ci saremmo trovati nelle strade, effettivamente sta succedendo, in Italia 500 elettrica, in Germania l'ID3, la X3 della BMW e così via. Non penso che ci siano dubbi che siamo a un momento di svolta. Ci sta poi questo forte legame tra struttura di ricarica e automobile elettrica. Noi ovviamente stiamo investendo come tanti altri, ricordo che quando uscì quella che piace tanto, la macchina a benzina, la benzina si comprava in farmacia e si comprava in bottiglioni da qualche litro. Non c'erano i distributori. In drogheria si comprava la benzina. E si andava a fare proprio rifornimento con i bottiglioni o con le tanniche. Ovvio noi non vorremmo passare per... la transizione sicuramente sarà più veloce, però ci vuole tempo. In fondo in Italia siamo il quarto paese al mondo, quando andiamo a guardare la proporzione tra il numero di veicoli elettrici che circolano e il numero di colonnine installate. Quindi non siamo indietro rispetto agli altri e accelereremo sicuramente nel momento in cui il venduto si alzerà. Su questo abbiamo qualche problemino con la pubblica amministrazione, secondo me proprio in termini di capire che questa evoluzione alle porte c'è necessità di accelerare da un punto di vista infrastrutturale. E' una leggenda metropolitana, visto che sia stato molto sintetico, quella di dire che se oggi ci fosse un'evoluzione più veloce di quella che abbiamo avuto ci sarebbe un problema di tenuta della rete, Francesco? No, il problema di tenuta della rete non ci stanno... Stavano ieri, non ci stanno oggi, non ci saranno domani. Quello che dobbiamo considerare, come dicevo prima, è che si va sempre di più verso una rete sempre più digitalizzata dove le fonti di generazione saranno sempre più distribuite e così carichi. Le auto elettriche nel fondo sono dei grossi computer con delle gigantesche batterie su quattro ruote. E quindi quello su cui noi stiamo investendo è proprio di utilizzare questi computer con queste grosse batterie per fornire servizi alla rete del domani e quindi costruire quella power plant virtuale di cui ho parlato prima. Bene, tra poco arrivano le domande dei ragazzi, ce ne sono già due, però vorrei chiudere con mossa. Le banche tradizionali, insomma, alla fine fanno un mestiere solito, cioè l'intermediazione, come dicevi tu, altro che disintermediazione, però tassi a zero come sono oggi qualche problemino ce l'hanno. Quindi la domanda che io ti faccio è, si parla molto di ritorno dell'inflazione, ci credi e quindi credi che in prospettiva ci sarà un aumento dei tassi? Immagino che anche gli ingegneri che ci ascoltano capiscono bene che un periodo di tassi così basso, insomma ce lo siamo sognato, ci sono tassi negativi, bisognerebbe spiegare ai nostri genitori cosa vuol dire avere un BTP che invece di darti dei soldi alla scadenza te richiede. Gian Maria? Sì, ma io credo che sia anche per la sostenibilità del sistema un sano ritorno a un po' di inflazione e rialzo e normalizzazione dei tassi. È la prima volta nella storia, cioè mi è già trovato un po' in vita, fino a dopo guerra, che politica monetaria e politica fiscale hanno compato così tanti soldi nel sistema. Ci preoccupiamo di un deficit al 3 o 4, gli Stati Uniti hanno buttato dentro più del 25% in poche settimane. Quindi io sono molto convinto che ci sarà un effetto nominale sui prezzi, lo vedi già nelle bolle che ci sono in borsa, nelle pammadi, nel real estate. Poi non lo chiami inflazione perché non si è ancora tradotto nel paniere che sottostà all'inflazione stessa, al basket dell'inflazione. Però non puoi pensare che stampare soldi non abbia impatto sul valore che la moneta acquisisce. Anche il fenomeno, sempre per tornare al bitcoin, è una conseguenza naturale di un accesso di liquidità in cui ormai non si mette un po' da tutte le parti. Quindi questo sarà più violento e considera che è cambiata, io arrivo da studi economici, avevo studiato quando Volker come Presidente del Governatore della Fed aveva ancorato la produzione di moneta ai livelli, diciamo all'inflation target. Oggi sostanzialmente per la prima volta da allora si è detto che l'inflazione non è più una priorità, anzi si può tranquillamente star sopra quelli che sono i target inflettivi, c'è un cambiamento epocale e quando le banche centrali decidono di portare a casa un obiettivo ce la fanno. Quindi l'inflazione secondo me non è solo auspicabile ma arriverà. Ora l'impatto sulle banche sarà sicuramente, se viene fatto in modo moderato e lineare, positivo, però il tema delle banche a mio avviso è che bisogna anche ripensare un po' al ruolo di queste banche perché oggi purtroppo con tutte queste regolamentazioni sono diventati degli oggetti che quando l'economia ha più bisogno di finanziamenti queste vanno sott'acqua perché hanno bisogno di più capitali. Quindi cosa hanno fatto questo giro? Hanno tamponato, hanno detto mettiamo la garanzia noi come Paese, ecco non può secondo me funzionare esattamente così ma preventivamente bisogna creare dei meccanismi di compensazione per cui le banche possono effettivamente fare le banche anche in un contesto di tassi bassi. Già Maria, ma in anni di tassi bassi in cui voi siete stati distrutti dai margini di interesse vuol dire che con un po' di inflazione le banche sono place to be perché avete ridotto i costi, siete riusciti a sopravvivere con tassi zero, sotto zero, con un 4-5% dei tassi di interesse, ovviamente il nostro scenario è dire idilliaco e dire poco, visto che vi siete abituati a vivere negli ultimi 5 anni, quanti anni è che stiamo in tassi zero, 3? Diciamo che se lo guardi in Europa meno, nel terzo anno, se lo guardi in Italia, se lo guardi in altri paesi perché noi abbiamo sempre avuto lo spread che comunque da molto, se pensi alla Germania è la situazione ancora più devastante, non è solo per le banche ma è anche per le compagnie vita, il problema riguarda tutto il settore allargato. Peggio mi sento per loro. Quindi nel medio periodo è chiaro che quelle che stanno sopravvivendo hanno fatto un lavoro pazzesco per rendersi più linee, per ridurre i costi fissi, hanno fatto una trasformazione importante, ce n'è ancora da fare, c'è ancora tanto consolidamento che introduce anche una componente un po' più speculativa della borsa, quindi sicuramente sì hai ragione, se c'è inflazione il settore finanziario ne risente positivamente e se guardi negli Stati Uniti è quello che sta succedendo. Di fatti, già le prime trimestrali di due o tre giorni fa, anche se l'inflazione non è del tutto arrivata, anche se sono aumentati. Nicola Guidi, prima domanda, iniziamo subito con le domande. Salve e grazie per la possibilità di farle una domanda, vorrei sapere come vede il tema dell'idrogeno, secondo me questo è rivolto a Venturini, come vede il tema dell'idrogeno nel programma produttivo italiano? Mi riferisco particolarmente a quello che SNAM sta implementando, avete una linea chiara per la fornitura di energia elettrica pulita e rinnovabile sia per l'uso domestico che industriale, avete già in mente alcune partnership con attori produttivi, in Italia mi viene in mente Falk o Erg, insomma più domande in una, immagino non per mossa queste ma per venturini. Provo a rispondere sinteticamente, da un punto di vista energetico l'idrogeno è sicuramente risorsa importante ma altamente inefficiente, si parla di idrogeno ormai da vent'anni e la tecnologia è rimasta un po' quella che era vent'anni fa, quindi giusto per far capire cosa significa idrogeno poco efficiente, se noi andiamo a guardare per fare 250 km servono circa 50 kWh in termini di batterie, quindi un'auto elettrica, se andiamo a prendere quei 50 kWh produciamo 1 kg di idrogeno, con 1 kg di idrogeno si fanno circa 100 km, quindi il rapporto è 1 a 2,5, questo sulla mobilità lo possiamo andare a espandere perché poi la fisica rimane quella praticamente su tutti i settori produttivi. Si parla tanto di idrogeno perché è sicuramente fonte pulita e si parla anche tanto di idrogeno perché il mondo dell'oil da qualche parte deve andare a parare e poiché ha una grande difficoltà a entrare nel mondo dei rinnovabili perché è un mondo ormai un mondo abbastanza saturo e che è partito circa 15 anni fa, si trovano a parlare di idrogeno. I idrogeni ne esistono tanti, l'unico idrogeno su cui io mi sento veramente di credere è quello cosiddetto verde, cioè l'idrogeno prodotto da fonte rinnovabile e che poi viene utilizzato per quelle forme industriali o di trasporto che altrimenti abbatteria probabilmente. Ci sei andato giù piatto come si suol dire a Roma, ci sei andato giù bello... Io sono sempre sincero, non lo conosci. Ammazza, comunque mica male Venturini, solo per sottolineare perché qualcuno magari pensava che fosse un po' diplomatico sulla questione dell'idrogeno, però voglio insistere su una cosa, energia elettrica prodotta in maniera un po' intermittente dal pannello fotovoltaico, idrogeno come batteria serve o no? E' questo che stavi dicendo? No, non stavo dicendo questo, stavo dicendo che l'idrogeno è potenzialmente una forma di batteria, chiamiamola così, di energy storage, più che di energia, a mio parere ci stanno forme diverse che, visto che parliamo di innovazione, di digitalizzazione, digitalizzare una rete vuol dire riuscire a utilizzare tante forme contemporaneamente di generazione ma anche tanti carichi. ritorno al concetto di virtual power plant, la rete del futuro non sarà quella di oggi, sarà una rete molto digitalizzata, l'idrogeno sarà un piccolo pezzo che parteciperà. Bene, andiamo su Mossa. La domanda la fa Stefano Colombo, Giammaria. Due domande per Giammaria Masso, sperando di non finire fuori tema. Nel mondo del trading e speculazione finanziaria, il trading discrezionale sta venendo sempre più sostituito da quello algoritmico. Pensate che questa tendenza sia ugualmente in atto o lo sarà in futuro nella gestione patrimoniale anche per clienti più facoltosi, quindi questo stiamo parlando dell'utilizzo degli algoritmi. Seconda cosa, un'istituzione tradizionale come può essere banca generale, come vede il bitcoin in generale, l'ecosistema delle criptovalute può diventare una minaccia per i gestori, insomma un po' di criptovalute e di algoritmi per la gestione per una banca tradizionale. Il trading algoritmico è già nella Main Street, faccio un esempio, tutto il tema dei semi passivi, tutto il tema degli ETF passano con modelli quantitativi, dopodiché ci sono modelli che sono solo per replicare o momenti invece per cercare di catturare dei trend. È una parte gigantesca del mercato ed è la parte che secondo me motiva di più una componente attiva nella gestione, perché purtroppo questi sistemi tendono ad accentuare le fluttuazioni. Il disastro che è successo a marzo, che è stato violentissimo, è in gran parte dovuto al fatto che i modelli hanno dato il segnale di vendita, perché sono tutti tipicamente su fase o di replica o di trend. E quindi devo dire che ci sono tante soluzioni quantitative, anche le persone più ricche stanno compensando, stanno bilanciando le strategie di portafoglio mettendo sia la parte gestione quantitativa sia la parte gestione qualitativa con una componente forte di alfa da parte del gestore. Quindi è un trend forte, è un trend che preoccupa il sistema e che non è ancora stato, secondo me, colamentato a sufficienza e che ha anche le fluttuazioni facendo anche dei disastri. Sul Bitcoin, noi siamo credo l'unica banca che ha direttamente investito con una start-up che si chiama Conio. Sì, ne ho parlato proprio ieri perché lo chiedevano nel mio webinar, tutti parlavano di questa Conio. Sì, sì, ma diciamo che stiamo lavorando davvero tanto perché credo che le cryptocurrency per diversi motivi, sia che se le guardi come strumento di pagamento, sia che le guardi come strumento di investimento, sia che le guardi come una modalità per essere più trasparenti e mettere in sicurezza delle transazioni, sia la rivoluzione copernicana nel mondo della finanza. Credo che il Bitcoin spesso e volentieri si tenga troppo a far coincidere Bitcoin con cryptocurrency, con blockchain. La Bitcoin è uno dei sottoprodotti e cercherei di tenere ben differenziato l'esito di una nuova tecnologia che nelle cryptocurrency trova anche la possibilità, per esempio, di tokenizzare degli asset finanziari da quello che è una valuta che oggi è nata, il Bitcoin, considerata valuta digitale, anche come storage di valore. Quindi bisognerebbe approfondire un po' il tema, ma diciamo che in generale io credo che per banche come la nostra avere la possibilità di cavalcare il fenomeno tecnologico in primis della blockchain e di tutti i sottoprodotti sia un modo per essere più sostenibili pro futuro. Quindi, come dicevamo prima, non bisogna mettersi, non nascondersi, ma bisogna in qualche modo viverla e l'investimento che abbiamo fatto in conio è proprio quello di riuscire in una logica quasi di corporate venture capital di cavalcare il treno. Per Venturini, quale pensate, lo chiede Filippo Albertaro, quale pensate che sia il più grande ostacolo nello sviluppo e l'implementazione di tutte queste innovazioni in una realtà come quella italiana? Insomma, quali saranno i freni, chiede Filippo? I freni sono uno dei freni importanti, è proprio la necessità di trovare il talento, il talento giusto. Abbiamo grande necessità di immettere all'interno della nostra organizzazione sangue nuovo, con una formazione nuova e con una voglia nuova anche di fare impresa. L'imprenditorialità è, secondo me, un aspetto che un po' manca nei giorni che crescono dall'università italiana. Perdonami. No, 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 finisci perché poi pensavo avesse finito. Poi volevo tirare un calcetto alla pubblica amministrazione in generale, però questo qui non mi piace. Vai, 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 no, ti piace da morire. Vai, vai, Francesco, già l'hai fatto all'idrogeno, vai sulla pubblica amministrazione. Secondo me la pubblica amministrazione dovrebbe essere l'esempio qua, invece è un pochettino quello che tutti si tirano dietro. Parliamo tanto di mobilità elettrica e dopodiché ci troviamo con la pubblica amministrazione che è l'unica che non cambia il tipo di trazione che utilizza per andare a spazio. Per mettere una colonnina quanti cavolo di permessi devi chiedere? Cioè poi si lamenta, è vero che c'è la conferenza… La media in Italia per andare a riuscire a installare una colonnina è quasi 365 giorni, quindi un anno. Ecco, questa è la situazione in questo momento. Ma ci troviamo veramente in situazioni che rasentano il colmo, come si solleva dire. La pubblica amministrazione deve sicuramente cambiare, la pubblica amministrazione è una risorsa fondamentale, però rischia di diventare un ostacolo nel momento in cui non innova tanto quanto il resto dell'industria. Ora, non dico che devono essere a pari livelli, ma quantomeno accompagnare innovazione è assolutamente fondamentale, altrimenti diventa un peso. Giovanni Ducci, parlando di mobilità elettrica, le nostre fonti di energia dipendono in gran parte dall'estero, stiamo investendo molto in rinnovabili ed anche qui abbiamo parecchi problemi, vincoli burocratici. Pensa che in futuro questi problemi potranno essere l'ennesima palla al piede che l'Italia dovrà subire? Chiede Giovanni Ducci a Venturini, chiaramente. A premesso che si va su sistemi elettrici molto più europei e molto meno nazionali e che noi abbiamo una grandissima fortuna di trovarci in un paese che di sole e di acqua ne ha tantissimo. Abbiamo anche una e non solo una, perché ne abbiamo tante di grandi aziende elettriche che sono in grado di fare generazione, distribuzione e digitalizzazione delle reti. si tratta soltanto di investire in maniera giusta nella giusta strutturazione dei ruoli all'interno del settore dell'energia in maniera tale di fare investimenti avendo un obiettivo chiaro. Quello che ogni tanto manca, ma qua vorrei anche un'opinione da parte di Laura e Gianmaria, quello che manca ogni tanto in questo paese è la voglia di prendere delle decisioni, quindi avere una visione e dire io voglio arrivare là. Invece perdiamo tanto tempo a discutere se ci dobbiamo arrivare in questa maniera, in quest'altro, in quest'altra ancora e finiamo per essere spesso sorpassati. Laura? Allora, stesso pensiero mio, assolutamente. Assolutamente. Obiettivo prima, chi, quale governo, quale è, poco rilevante, però facciamolo perché se no… Ok, Mossa però voglio chiedere una cosa, Brian Soldano ci chiede il progetto dell'ABC sulle missioni di un Eurodigitale, siamo in piena innovazione e cos'è bene l'Eurodigitale, che cosa ne pensa e come impatterà nell'attività di intermediazione, crede Brian? Guarda, io credo che sia una bellissima innovazione perché aiuterà in diverse direzioni, per tutto renderà tutto più semplice, efficiente e trasparente. Voi pensate per esempio a tutte le missioni obbligazionari, quelle finalizzate in cui si potrà nel blocco scrivere la finalità, verificare l'effettivo utilizzo corretto dei soldi stanziati. Quindi io credo che sia un processo obbligato che porterà tanta efficienza e tanta trasparenza. Poi credo anche che questo coinciderà anche con uno sdoganamento della blockchain e delle criptocardie con il tema della sostenibilità, stanno nascendo tantissime blockchain che lavorano per ridurre il consumo elettrico e credo che questo sia un passaggio obbligato per farle entrare nel nostro linguaggio comune e anche all'interno delle banche centrali europee. Alessandro Olivieri ha letto un'intervista di Jean Todd, dottor Venturini, in cui parla di ibridizzazione del mercato delle automobili piuttosto che di un'elettrificazione del prossimo futuro. Pensa che questo step intermedio possa rallentare l'aduzione del Furo Electric, cioè la tesi che si passi per l'ibrido? Jean Todd è un equilibrista meraviglioso, cammina sempre sul filo senza mai cascare. essendo poi il grande capo della FIA e quindi avendo da una parte la Formula 1 e dall'altra parte la Formula E soltanto per dare una dimensione di che cosa stiamo parlando. Le case automobilisti hanno puntato tantissimo all'ibridizzazione inizialmente, si sono accorte che il passaggio sarà molto più rapido del previsto. Quasi tutte le case automobilisti hanno detto che entro i prossimi tre anni smetteranno di fare automobili ibridi e passeranno esclusivamente all'elettrico, perché il passaggio è molto più rapido di quello avevano previsto inizialmente. Mossa, Marco Marchi, tra le big tech qual è quella che più sta minacciando il settore finanziario tradizionale? Quella che più sta penetrando quel mercato? Bella domanda, dal mio punto di vista ce ne sono tantissime. Io ho guardato con grande attenzione Coinbase, perché ha fatto anche un processo di quotazione un po' particolare, potrebbe diventare una piattaforma per la negoziazione di qualsiasi cosa. Itoro, che è nato al contrario, israeliana, che invece è partita dal trading tradizionale e si è spostato sulle bitcoin, o per esempio tutto il tema di Stripe, di cui parlavo prima dei sistemi di pagamento. Però siamo sempre nell'ambito del transazionale, secondo me. Nell'ambito più del servizio di wealth management, personalmente non vedo nessun attore protagonista, vedo molti che si stanno affacciando al mondo del wealth management in una logica B2B2C, cioè di essere degli engine di supporto dei big player per portare efficienza, ottimizzazione dei servizi. Non riesco a vedere dei pure player che possono rappresentare un prodotto vero. Beh, però per la chiedo io questa cosa, che non hanno ancora chiesto tutti quanti, ma il risparmio gestito di persone facoltose passa sempre per la relazione umana? Non potrà mai esserci un'intelligenza o un machine learning in quello? O sbaglio? Ma io ne sono convintissimo. Io sono tra quelli considerati un po' più innovativi nel mondo finanziario, però la centralità nella relazione, qui si parla di soldi e di un contesto in cui non si ha la certezza dei risultati. E tipicamente si parla di come mettere in relazione questi soldi con le esigenze familiari e quindi con le relazioni di nuovo. Questo non può essere demandato una macchina. La macchina può sicuramente aiutare, da una parte, a velocizzare, ottimizzare tutto il tema dei dati di cui parlavamo prima, è straordinariamente importante perché avere un assessment, diciamo, razionale, utilissimo. Poi di nuovo parli con la pancia. Facciamo l'esempio. A marzo, quando è scoppiata la pandemia, io sono venuto a venire in ufficio 4-5 volte perché gli imprenditori non parlavano né al telefono né in video e siccome dovevano parlare del passaggio razionale alla loro impresa perché avevano paura, mi volevano guardare negli occhi. Ecco, questo rimarrà. Certo. Tra due generazioni, tra 30 anni, 40 anni, qualcosa cambierà. Ma quando si parla con gli affetti e gli affetti non sono solo familiari, l'impresa è la propria creatura, il patrimonio costruito fa parte della propria storia, quindi lì è molto difficile disintermediare. Lorenzo, Amoroso, quanto potrebbe influire nello sviluppo dell'elettrico la liberalizzazione del mercato energetico italiano, Venturini? La liberalizzazione del mercato energetico italiano, se fatta in maniera intelligente, porterà un'opportunità per tutti. Perché esiste Enelix? Faccio sempre esempio, il mondo delle telecom hanno avuto una grande opportunità, che era quella di investire nei contenuti e l'hanno perso. Sappiamo che sono focalizzate poi alla fine su quello che era il dato, senza andare a legare il dato al contenuto. Secondo me questo è stato pure un po' colpa del mondo finanziario che ruotava intorno a quelle aziende. Concentratevi su quello che sapete fare e lasciate perdere il contenuto perché fa parte di chi fa i film. Invece lì c'è stato un grande errore. Il mondo di Enelix è proprio questo, è tentare di dare un contenuto all'energia. Noi facciamo questo. Quindi in un mercato liberalizzato dove l'energia costa sempre meno, il contenuto diventa sempre più importante e andare a sviluppare creatività e innovazione per andare a creare servizi che si legano alla commodity energia è fondamentale. Se lo facciamo fatto bene l'Italia può giocarsi un grande ruolo, non soltanto in Italia ma dappertutto. Direi che le domande sono finite, abbiamo fatto più di 20 minuti di domande, quindi potremmo anche chiudere qui, vediamo se c'è qualche altra domanda, direi di no. Quindi io direi tanto di ringraziare Laura Grassi, direttore osservatorio Fintech e Insultec del Politecnico di Milano che ci ha ospitato e con i suoi studenti, altri studenti del Politecnico che ci hanno fatto le domande. Ovviamente ringrazio Francesco Venturini, CEO di Enel X, per essersi prestato a dirci tutto come io ormai ho imparato a conoscerlo con una, come possiamo dire, una... schiette. Sì, sì, proprio schietto, cioè sai quello che pensi, cioè è difficile girarci intorno e invece Mossa non lo ringraziamo perché Mossa invece trema al Fintech perché sa che gli studenti della Grassi del Politecnico lo disintermedieranno con uno scenario di tassi negativi, meno 2% per i prossimi 22 anni. A quel punto ci suicidiamo tutti Mossa, che succede? Meno 2% per i prossimi 20 anni non si resiste al sistema finanziario. Assumo un paio di questi ragazzi e faccio una startup nella blockchain. Ok, perfetto. No, a parte le battute, grazie veramente a tutti quanti voi per questa mattinata e grazie agli studenti che ci hanno seguito e tutti coloro che ci hanno seguito fino ad ora. Buona giornata. Grazie a te, ciao Nicola, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Ciao, buona giornata. Grazie a tutti.